Oggi siamo ancora in tempo, oggi abbiamo una situazione pesante, ma non siamo alla tragedia, però siamo a un passo dalla tragedia. Detto in maniera brutalmente chiara, io non voglio trovarmi di fronte qui da noi ai camion militari che portano centinaia di bare, di persone decedute. Non siamo garantiti da nessuno che questo non avvenga, se non dalla nostra responsabilità, dalla correttezza dei nostri comportamenti e anche dalle decisioni che prendiamo da subito. Altrimenti, quelle immagini che abbiamo visto qualche mese fa sono destinate a riprodursi e a entrare nella nostra vita in maniera drammatica. È evidente che siamo di fronte ad un momento che è grave. Io chiedo ai nostri concittadini una cosa soltanto. Da oggi in poi sentitevi soltanto esseri umani. Non ci sono più distinzioni, né politiche, né religiose, né economiche, né ideologiche. Da oggi in poi siate soltanto esseri umani, donne e uomini impegnati a difendere la vita dei propri figli, la vita delle proprie famiglie. Tutto il resto viene dopo. Anzi, tutto il resto non conta nulla.